Ha deciso questa sfida? Sì, autore di una doppietta importante, sfida decisa dai tuoi gol. Sì, è stata una vittoria importante per noi, un campo difficile, comunque la Triestina è un'ottima squadra, ha dei nomi importantissimi, è una bella vittoria, credo che la prestazione della squadra sia stata buona, poi ho avuto la fortuna di fare io i due gol e questo è ancora più bello. Te l'aspettavi così, questa Triestina, che squadra vi siete trovati davanti? Ma sicuramente c'è giocatori importanti, come ho detto prima, che vengono da categorie importanti e forse hanno un po' di difficoltà nel fatto di scendere di categorie, ma credo che a distanza usciranno fuori sicuramente. Grazie a Morca al Lupo, con proseguimento.